La gara tra Montegiorgio e Notaresco termina in parità, un risultato che non permette agli albruzzisti di ragganciare i play-off. Per Montegiorgio invece un'altra buona gara in questo finale di campionato. Primo tempo brutto, con poche azioni, degne di nota, ripresa più divertente dove arrivano anche i gol. I primi a farsi vedere sono i padroni di casa, che al sesto vanno vicini al vantaggio, punizione dal limite di Omiccioli che colpisce in pieno l'attraverso col pallone che finisce poi sul fondo. Al dodicesimo risponde il notaresco con Moretti, il tiro è centrale e facile per Menegatti. Al venticinquesimo punizione di Omiccioli che ci riprova, ma Monti si distende e parla senza problemi. Al trentaseiesimo grossa occasione per il notaresco, errori di Biasola in disimpegno che in pratica consegna la palla a Candellori, il quale calce di prima intenzione, ma Menegatti vola a deviare. E in pratica questa l'ultima emozione del primo tempo. Nella ripresa si assiste a un gioco molto diverso, già da pochi secondi grande azione di Di Stefano per il notaresco sull'auto destro, cross in mezzo con bontà che viene anticipato in corner. Al terzo punizione di Albanesi, Marchionni gira verso la porta, miracolo di Monti, poi Salvatori salva sul possibile tap-in di Terrenzo in area piccola. Al decimo il risultato si sblocca, cross dalla destra del scatenato Di Stefano, Menegatti non trattiene, poi Minella calcia, Biasola rinvia sulla faccia del compagno vecchione che fa autogol. Neanche il tempo di esultare che arriva al pareggio dei perdoni di casa, azione insistita nel Montegiorgio, ci prova Mariani, palla ribattuta, poi Nasi ci ribadisce dentro. Al ventisettesimo rapido scambio Candellori-Bontà che gira dentro, Minella tira verso la porta ma non inquadra lo specchio. Al ventinovesimo Ruci arriva a tu per tu con Menegatti che gli sbarra la strada. Al trenequattresimo il gioco si interrompe, infortunia muscolare all'arbero che dopo sei minuti si riprende grazie alle cure dei massaggiatori. L'ultima emozione dell'incontro è al quarantunesimo con una conclusione di Ciarmela parata senza problemi. Tutto sì, un pareggio secondo me buono, abbiamo fatto una buona partita e la squadra è... La squadra sta continuando quel grande campionato che quest'anno ha fatto. Devo dire che i ragazzi hanno fatto una stagione eccezionale. Secondo me è da ricordare, per la prima volta in Serie D questa squadra ha dimostrato che se l'è giocata sempre al pari con tutti. Si è salvata con quattro giornate d'anticipo e i ragazzi sono stati veramente bravi. Quindi la partita è stata buona, una buona partita in cui il primo tempo potevamo fare forse qualcosa in più in fase di ripartenza, però alla fine è un risultato tutto sommato giusto. La stagione è stata piena di difficoltà, non per ultima l'assenza di sbarbati circa un mese e mezzo fa che ci ha lasciato un po' in difficoltà. E quindi in mezzo a tutte queste difficoltà io devo dire che la stagione dei ragazzi è stata fantastica. Si è un campo difficile perché il Montegiorgio ha dimostrato strada facendo di essere una squadra attrezzata, una squadra organizzata e ha dato filo da torcere a parecchie squadre e ha conquistato una salvezza, cosa che il giorno è andata sembrava un po' difficile invece con grosso merito è riuscita a raggiungerla prima della fine del campionato. Quindi per noi era una partita importante perché ci poteva dare lo spunto, la ripartenza per poter riprendere la corsa per i play-off. Un pareggio alla fine credo sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo, ci tiene ancora in corsa però sicuramente bisogna fare qualcosa in più per poter ambire al 100% per raggiungere questo obiettivo.